Bella raga, qui Zeus, benvenuti qui sul mio nuovissimo video, qui sul mio canale Raga, guardate qui, ho comprato la PS Camera E infatti sto registrando subro alla con la PS Camera Ditevi se volete altri video con questa E vediamoci di andarci a fare qualche partita così, molto stealth Ditemi anche se vi piace questa impostazione Ditemi tutto raga Andiamo a vedere se... Qualche partita Allora, vediamo qua Due contro due, vediamo chi posso prendere Io prenderei Queen Nye, bello Diretto Allora, vediamo raga Cosa riesco a fare Scusate se guardo un pochettino di là Ma lo schermo un pochettino più di là Cosa complicata raga, un giorno vi spiegherò Allora, vai, vediamo Dopodichemi se questi effetti dietro è lo scontornamento Vi piace Allora, vediamo, vediamo Io sono Queen Nye, quella di là Questa di qua Questa che si sta muovendo in questo preciso istante Allora, vediamo Vediamo cosa riesco a fare Bello sto colpo Allora, ditemi raga se volete altri video così Ovviamente l'ho comprata Quindi la porto E raga E porterò anche un sacco di Qua non devo Prendere le mani Perché mi distrago E dopo gioco male Quindi E porterò tantissime nuove live Oh, non riesco a prendere manco uno Ma così qua stanno giocando insieme raga Cioè utilizzano le stesse mosse Nello stesso momento Aia E utilizzano le stesse E vabbè Utilizzano sempre questa Cioè uno prende all'altro Del là E l'altro di far la mossa questa del lupo Allora, vediamo Ottimo Sono quello con tre kill Insieme all'avversario Praticamente Allora, vai No, eh, vabbè Qua Qua no, no Non ci credo Non me l'ho preso Allora, vediamo Vediamo Rispauna Prendi qua Lanciala Ok, bella, bella Vediamo se lo butto fuori pure Bellissima Bella così Allora, prendi qua No, l'ho lisciato malissimo Vai Allora, vai, vai Prendi, prendi, prendi Oh, bella Eh, allora Dopo, raga Maestro Fenice Un nostro amico Mi ha detto che devo Non devo fare Primo le stesse mosse Ma già questo di qua lo sapevo Allora Il mio compagno Rimaneva una vita Oh, quello di FK Grandissimo Questa cosa che fa FK Ci vuoleva come il padre Eh, però il mio compagno è stupido Dai, sei andato a suicidare Davvero Allora, questo di qua lo buttiamo subito fuori Allora Qua Abbiamo due due vite E cioè, si può giocare tutte e due Però Eh, raga Non lo so Non lo so Ad essere sincero Ecco qua Bellissima Out Così Qua sto prendendo tutte le armi Prendiamo No, e vabbè Lui doveva da quella Ok, allora prendo questi qua No, non c'è Oh, per quanto Ma perché gli hitbox Sono fatti così bene qua Cioè Se era un altro gioco Lo prendevo in pieno Comunque, vai Eh, vabbè Sta mossa, raga Però Cioè, me la fa sempre Dai, vabbè Ma ho dato out Ah, va bene Va bene Ancora un'altra vita Abbiamo avuto due una vita Ciascuno Lui non è così tanto forte, raga Cioè, più Questa è Di più è un'autoconvinzione Piuttosto Comunque Lui non è così tanto forte, raga Non è così tanto forte Allora, vai Ma ci siamo fatti male entrambi Allora, vai Ok Allora, vai, vai Aspetto qua No, non ci credo Non l'ho preso Maldaggio Eh, dai Risali Dai, mi rimandi di nuovo lì? Dai Dai, capo Stai calmo No, non ci credo Stessa mossa Mi ucciderò così sicuramente No, ma dai Non me la voglio gufare Ucciderò io così Ok Così già meglio Aia Eh, allora Prati qua No, no, no Eh, vabbè Mi ha mandato out Dopo Raya Ho comprato il nuovo microfono Spero che si senta tutto bene Tutto a posto Andiamoci a giocare la seconda partita Vediamo con Caspian Ok, ho comprato questo microfono Cioè Non è professionale Però, dai Penso che si senta bene Ditemelo anche voi giù nei commenti Mi sono arrivati tutti i pacchi oggi, raga Quindi il tempo di Pacchi intendo La La PS camera E il microfono Mi sono arrivati oggi Quindi il tempo che sento tutte cose E dopo possiamo iniziare a bomba Con live E tutte cose Allora, vediamo qua Bella l'avversario Ottimo Favoloso Allora, vediamo con Caspian Cosa riesco a fare, raga Allora, questi qua Non li vedo molto arzilli Già quello di là Con la lancia È la quarta mossa Che fa così Cioè, peggio di me Questo È quello di lei Si è riuscito E gli ci dato Grandissimo, dai Io sto bello tranquillo Qui Dai, picchia un pochettino di persone Allora Bella questa Questa no Questa un po' meno Questa un po' meno Allora, vai Vai, vai E vabbè Non riesco a prenderlo Ok, perfetto Così li ho presi tutte e due Allora Allora Nel frattempo si aprono porte E allora Vediamo Vediamo Allora Che bella questa Bella questa Bella questa Perfetto Quello di là è out Sì, è out Grandissimo Anche quella Bravo il mio compagno Ok Vediamo Vediamo cosa riesco a fare Vediamo cosa riesco a fare Ottimo Dai cavolo Io li sto prendendo tutte Mi schi Non sta capendo niente Quello Mi schi Allora Mi sto prendendo Eh, vabbè L'ho presi con tutti i colpi Raga Eh, qua Qua Però mi sono caduto Non in ferro Grandissimo Zeus Grandissimo Il mio compagno Sì, però Adios Ahia Eh, si è fatta la double Ah, non ci credo Dai Andiamo di starmiare Questo di qua Che vuoi andare a giocare La terza ed ultima Dai, cavolo Bella Ma come che non l'ha preso Perché i guanzoni Non l'hanno preso Ora Perché si fermano sempre lì Beh, è scarso Questo, raga Massacremo Immediatamente Allora Vai Aia Dai, dai Cavolo Non l'ho presa Mannaggia Quasi quello L'ho sciupata Praticamente Dai, dai, dai Cavolo Dai, cavolo Dai, cavolo Prendi quella Vai così out Vai così out Vai, 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 vai Dai, l'ultima vita Lui ha Noi abbiamo tutti due due Quindi Fantastico Magnifico Allora Vai Prendi qua Allora Allora Vediamo cosa riesco a fare Vediamo, vediamo Bella questa bomba Allora Eh Dai, dai, cavolo No, non ci credo Ho preso il mio compagno Davvero Dai, davvero Cavolo Veloce, veloce Veloce Dai, 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 dai Bella così Vai così Bella lì Bella lì No Perché non lo riesco mai a prendere Raga, così Mannaggia Allora Qua io volevo fare un abisso Ma non ce l'ho fatta Comunque Bella partita Allora, raga Andiamoci a giocare la terza Ed ultima partita di quest'oggi Vediamo Chi mi prendo Stavolta Prendo Brain Brain Mi piace molto Brain È molto British Come operatrice Vediamo Vediamo qui Cosa riesco a fare Raga Sperando di fare tante kill Dai Allora Vediamo Abbiamo Nitz Con Cioè Siamo con Nitz Vediamo la mappa quella Asiatica Praticamente Cinese Vediamo Cosa riusciamo a fare Allora Con Brain Me l'ho fregato l'avversario No, il mio compagno Me l'ho fregato L'arma Non è giusto Allora Qua Ho preparato il colpo Ma non è servito a niente Pensavo di colpire qualcuno Vabbè Allora Allora Vai così No, ho colpito il mio compagno Davvero Allora Vai Uh, bellissima L'avversario Grandissimo Complimenti Eh, eh Calmo, calmo, calmo Perché tutti questi Colpi leggeri E io con tutti questi colpi pesanti Dovremmo fare una fusione Io e l'inizio Con l'avversario Lui fa troppi colpi leggeri Io troppo con quelli pesanti Allora Lancia questa No Ok No, non sono riuscito a prenderlo Per quanto gli precisa Dai Perché non lo riesco a prender Oh Quante volte ho utilizzato Sta Sta mossa Davvero Ok, vai Così No, non ci credo Come l'ho lisciato Mannaggia Allora Vai Uh, calmo Chi si è disconnesso Forse è quello di loro Eh, allora Riprendi Bella, bella Allora Bella lì, vai così Quello di là Se ne va giù Bella L'ho fatta io Come? Manco me ne sono reso conto Comunque Bella Allora Quanto stiamo? 3 2 2 2 Ok, ottimo Allora Eh, ok Sto utilizzando ora Mosse leggere Almeno ci pro Utilizzare le mosse leggere Raga Eh, vai Il mio compagno è out No, no, no Ma non ci credo Come l'ho mandato Vabbè, avevo tre vite Quindi Ancora tre vite Ora ne abbiamo due Prendi qua Bella Spare che il mio compagno Non ci muoia subito Comunque Allora qua Eh, vabbè Quante volte l'ho preso Dai, dai, dai Cavolo, dai, cavolo Dai, dai, dai Dai, dai Prendi, prendi Dove sta, dove sta Oh, bella Lo mando out Lo mando out Non si riprende più E infatti Eccolo qua Eh, allora Vai, 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 vai Allora Ah, non riusci più Ok, abbiamo due vite Bella Stavolta ora lui in a una Allora, vai, vai Giochiamo un poco Lo facciamo in fastighiera Un poco Un pochetto Allora Bello Dai, 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 cavolo Dai, cavolo Bella questa mossa Questa è verso giù Praticamente non li utilizzo mai Quelle verso giù Comunque Le devo iniziare ad utilizzare Facciamo ora Tipo No, ora no Ora no ho detto Però l'ho fatta Grandissimo Ma l'ho buttata fuori io Bellissima, raga Bella partita Eh, raga Ditemi Se volete Altri video Con la webcam Vabbè L'ho comprata Ovviamente Che li faccio Cioè Sono uno stupido Che non li facessi Eh, ci si becca Raga A un altro appuntamento Eh Con altri video Datemi consigli Su come mettere La webcam Eh, se il microfono Vi piace Cioè Fantastico Eh, ci si becca A un altro video Qui Zeus Bella A un altro video A un altro video A un altro video A un altro video